Quest'anno siamo già partiti, però comunque stiamo organizzando una sorta di Open Week durante le settimane a venire proprio per far incontrare le nostre discipline a più persone possibili. Noi già insediamo la disciplina del Taekwondo e della spada coreana e che quest'anno saranno di nuovo presenti. L'offerta del Taekwondo aumenta notevolmente con la preparazione atletica, con la preparazione tecnica e con la parte freestyle. Inoltre abbiamo già inserito dall'anno scorso lo yoga, uno yoga dinamico molto attivo, molto divertente anche sotto certi aspetti e il Pilates. Inoltre abbiamo anche il Pilates in gravidanza che è stato iniziato grazie al patrocino del municipio Otto Medio Levante. L'anno scorso abbiamo già iniziato con questa attività, oltre alle altre attività che abbiamo come ginnastica per anziani, stretching e via di seguito. Quest'anno cercheremo di crescere ancora un po' sulla parte forme, sulla parte freestyle, che è questa novità introdotta nel Taekwondo. Già l'anno scorso ai campionati interregionali Liguri ci siamo classificati primi come società e secondi anche nella parte combattimento. Quindi cerchiamo di mantenere anche questa parte molto attiva nella nostra associazione.